Si sono aggiunti altri 15 cittadini ai 5 positivi al covid annunciati dal sindaco di Montesano sulla Marcellana Giuseppe Rinaldi nei giorni scorsi. Salgono dunque a 20 i positivi nel paese del ballo di Diano. Durante questa settimana 19 e 25 luglio dichiara il primo cittadino di Montesano sulla Marcellana Giuseppe Rinaldi ai 5 già annunciati si sono aggiunti altri 15 cittadini positivi al covid 19. Il dato è riferibile a 4 o 5 nuclei familiari soprattutto in un'area del nostro territorio comunale che vedono in alcuni casi una pervasività del virus tra quasi tutti i componenti segno che possa trattarsi presumibilmente di variante delta. Va detto che non si segnalano per fortuna particolari e preoccupanti sintomi. A questi nostri cittadini l'augurio di una pronta e sana guarigione la vicinanza dell'intera comunità sottolinea il sindaco. Sale il numero dei vaccinati sul territorio di Montesano che ha superato il 60 per cento dei residenti ci tiene a specificare il primo cittadino da tenere conto che tra i residenti complessivi vi sono persone che stanno fuori Montesano e i bambini di età in cui non è prevista la vaccinazione anti covid 19. Invito dunque invito tutti a mantenere sempre alta l'attenzione sottolinea la variante come avevamo detto poteva coinvolgere anche Montesano e lo ha fatto. La situazione verrà monitorata quotidianamente in collaborazione con l'Asla di Salerno di Terroa giornati convinto che sia dovere ed opportuno farlo conclude il sindaco Giuseppe Rinaldi.